Salve a tutti. Appela è una piattaforma di crowdfunding che è uno strumento ancora poco noto in Italia ma che è già in grande espansione in tutto il mondo. Esistono circa 350 piattaforme di crowdfunding in tutto il mondo. Appela è una di queste ed è in particolare dedicata alla realizzazione di prodotti che siano culturali o che siano di design e anche di progetti legati al mondo dell'innovazione sociale. Nasce, noi abbiamo deciso di farla nascere perché appunto in Italia non c'era quindi volevamo fornire questo tipo di strumenti anche sul territorio italiano e perché crediamo che in questo momento soprattutto nella particolare congiuntura della crisi essendo un sistema di finanziamento alternativo e dal basso possa costituire una buona risposta per tutto quel tipo di economia piccola fatta di progetti allo budget quindi che hanno un buon impatto sociale, che possono fare appello alla propria rete sociale per autofinanziarsi e che magari hanno in questo momento molta difficoltà ad accedere a forme di finanziamento più tradizionali come quelle delle banche, delle finanziarie. Quindi progetti che attraverso una produzione dal basso possono realmente trovare un'occasione e un'opportunità per crescere. La chiave di Eppela e del crowdfunding è che un buon progetto prima di tutto sappia come raccontarsi quindi Eppela non è soltanto un'occasione di finanziamento ma è anche la possibilità per dei progetti di trasformarsi da un'idea in nuce a un progetto realizzabile vero e proprio quindi attraverso meccanismi proprio di autopromozione e costruzione del racconto della propria idea che sembra la cosa più piccola, si guarda sempre soltanto al finanziamento invece il modo in cui si racconta la propria idea e la si presenta al pubblico è già un buon test per capire come autopromoversi e autoprodursi. Quindi il business si crea fondamentalmente perché il progettista sceglie la propria idea, la lavora, sceglie il budget, valuta qual è la rete sociale che può provare interesse per quel tipo di progetto, costruisce il progetto, lo mette online e chiede un finanziamento e se poi accede al finanziamento lo realizza. Non sono finanziamenti immensi ma 5.000, 10.000 euro perché no spesso sono proprio quei finanziamenti piccoli ma necessari per una piccola impresa sociale o per una piccola start-up per farcela.